pronto prova prova salve feccia salve spero vi stiate curando le vacanze me le sto curando un po anch'io finalmente ho meritato lavoro e bla 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 dunque per fortuna dunque il salvataggio si chiamava roma sta sul cazzo a tutti deduco che la situazione era proprio una merda si 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 mi ricordo tutto dovevo invadere la spagna da sopra da sotto e stavo sul cazzo ogni ogni uomo dell'età antica che respirasse cazzo però non sento nulla mettiamo un pochino il volume non così alto da coprire la mia bellissima voce ma un po meglio va bene che tecnologia sta a fa' ah si i depositi di munizioni in casa da serio ovviamente non ho un soldo quindi via no scusate un personaggio una mira non lo segnalo un po no ne si si comandando io forte ho letto la strategia di birklo di fare un blitzkrieg come cazzo si chiama veloce per tutta la spagna però c'ho paura che dopo come si ribellano gli insediamenti che ho conquistato se non li converto però da una parte non conto averci contato i belli un conto cartagini potrei marciare subito in effetti si marcio subito non gli darò tempo di riprendersi ho deciso che bello un'invasione barbara in italia evviva evviva lo volevo da tanto che bello mannaggia da questi madonna perché gli eserciti stanno a morire i soldi ingiare i soldi e mantenevano le eserciti tutti soldi oddio che so i soldi ingiare 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 i soldi sono troppo sbandaggiose le condizioni vaffamano dai guarda quanti sono è quella la città? quella sarebbe Milano? ma al massimo l'avevo posto devi andare a fare altri eeeh vabbè però finalmente le terminazioni pretoriani madonna quanti però ecco questo è il problema se devo mescare la nostra rivolta che faccio pure argento degrado dai vaffan ah ho saputo con la faccia nuova adesso lì ha splitta le tuffe negli assedi sono molto contento perché è una scelta molto più logica poi sono anche molto dispiaciuto per adesso perché se splitta gli eserciti io sono morto 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 qualcuno mi ha sostituito il pc per caso se hai inculato la scheda video e il professore ram eh oh madonna quanto cazzo c'è sta in mente ma che cazzo c'hai oggi madonna oh me lo so letti tutti me lo so letti tutti li cosi eh li commenti questo di L si c'è sempre citazioni belle oh oh vabbia ho splittato sto cazzo meglio così allora dietro la porta mettiamo i pretoriani e i legionari petoriani e i legionari petoriani non vuote come sono sti petoriani eh sono belli cazzuti eh qua c'è un cosplay da mercurio bravo tutti i legionari petoriani tutti i giornali normali dietro voi neanche neanche per tempo a dire che siete poi che maio d'oro di sopra e vai facciamo anche questa arrivano mi sembra abbiano fatto grandi progressi con gli esseri forse dovrei iniziare una campagna nuova la velocità di fuoco ovviamente ebbè non lo so ragazzi madonna generative di munizioni questi non è tornato a casa nessuno guardate con la spada corta addio no ragazzi fate gli esempletti la lancia umana la lancia che succede? una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni che ha finito le munizioni si torga dai si maio che cazzo è che sta cosa? stanno utilizzando la scala che hanno cazzo prima? merda merda allora un pochino sono bigliotati prima non la usavano più giù 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 merda scendete porco demonio giù brutta massa di coglioni oh e che cazzo legionari siiii no aspetta voi ah ma dove fate finire? ma anche voi ok allora levate tutti e due che cazzo che cazzo fanno così se no i legionari di merda cazzo oh poi tanto bombardateli come a cristo come se tirassi sembri tenderebbe diavolo prestiaccia ciao la vedete come be che cazzo giù anche voi salite su uu 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 Dov'ha? Ando sotto lo muro? Maaaaaa! Ma che cazzo è? Quattordici facce e vedo legionario per caricare lo muro, per colpire quello sopra! Quattordici facce e vedo sta cazzata, madonna! In gioco da voi! Che la fare a salire? E i nostri uomini faccindano! Non lo so, dopo uno di scenni... Non vogliamo fare a salire? Voi, cecchiateli per di là! Voi dietro! Forza ragazzi, forza, forza! Oh no! Oh no! Che vero? C'è da qui! Voi metti liati a me! ma cerchiati i bastardi perché avete aperto la porta? l'hanno capito che dovevano salire, ci hanno messo in bocca non è più male non è più male non è più male ma non è più male quindi se non si può portare e non è più male e va bene se vuoi uscire regionali no, meglio di no, vabbè il fuoco amico che è il nemico ah, vi piace la lasagna cotta, eh? peggio a gallica ma non dobbiamo fare i combattimenti sulle scala, non li vedevo dai tempi, non li vedevo dai tempi di mezzo come cagano i minimi, e quelli che cazzo sono? ah, i cavalleri, i cavalleri a leggeri quando è andato finita ma manda so anche, che è il mietto, eh? non puoi andare a girare Ah, arriva Lugavo, arriva Lugavoccia, grandi, conquistando il fatto che erano mie, non è, questi lo scappano, ragazzi, è il vostro vento, avete fatto ancora i conti con i botte, cagli di Milano, attenzione, la battaglia sta poggendo in nostro favore, so che te dispiace, chi è che cazzo ti raccoglie, ma che cazzo, che cazzo ti raccoglie, che cazzo ti raccoglie, che cazzo ti raccoglie, che cazzo ti raccoglie, non entra, però, che cazzo ti raccoglie, che cazzo ti raccoglie, che cazzo ti raccoglie, stagione, ah, quelli che li stanno scappando, stagione, stagione, eh, bandiere Gia, tornate su, scolgeo, scolgeo, che cazzo ti raccoglie, che cazzo ti raccoglie, che cazzo ti raccoglie, fri carri di uscoglie, Questa cavalleria per merda Oh, quando ci mettiamo a posizionacce Non vogliono mai Ah, vedete Questa cazzo le chat le stime ogni tre secondi Si è connesso stronzo, è connesso bastazzo, è connesso ferocio Eh, vogliete un po' di coglioni Madonna, madonna E la barca va Ho trovato le scarpe e i gommi La barca, la BIP Ho metto io il BIP Dimiti, madre, no, flette Non voglio la madre pianta La madre del guardo non pianta Perché al latino io l'ho forte Perché ho conservato la mia Madonna, oh Ma che cazzo stai a fare con te lo gioco Che cazzo Che il Cerny ne ha chiesto della Boramboletà di Dio Bono Daglie cazzo Ma che su C'è un po' di che l'estate Però che non c'è così Già manco due anni cazzo Oh, ogni volta che esce una patch No, va Eccoci, oh Me lo spombina Sì, vabbè Mi ignorano i bug E qua, là Però, Dio Bono Mi spombino vicino Dio Bono Dio caro Chi fa un gallo voglia Se mi ingazzo pure Oh, madonna Giusto perché non voglio Deve mettere il BIP Però Se no ti avvo giù Tu best e mio Io ci Pam Pam, pam Madonna Dai Le braccia hanno messo meno a scappare all'Egitto Su Dio Bono Ma opide Che aspettiamo che sape l'umare Sofferti le coglioni mie No l'umare Dai Oh, ora te la dipingo io da verde Sta barra Porca puttana Ma che cazzo c'hai Eh, dai Vabbè Forse a bestemmia si è caricato Dio Dai Dai Oh, si Emo che pieno che tocca aspettare Andiamo a vedere il mal No 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 mi ha commentato il drico politico scusate un attimo eh, un secondino boh, ci ha aperto un cazzo, vabbè vaffan andiamo a un borratto acquisito, abbiamo 5 ammantellimento, grazie un po' fumidale, un altro personaggio, un po' svitato no, non botta il rago giocheremo un po', eh, abbiamo un po' civilizzata, no? allora, questo, la regione alpina comandante, e non solo, lo spostamo a Padova che arrivano i brevici Milano, alla fine, sulla tagavaria poi quindi a Tarrago stiamo a far l'ucesso stiamo a far l'ucesso stiamo a fiume a tempio la cosa cosa va? fiume finito fiume finito fiume finito fiume finito l'alba, ma anche qua gli stanno chiesto sapete che spaccio? che maccio lì? oh oh, un bel bestemmio eh un bel bestemmio un bel bestemmio un bel bestemmio un bel bestemmio ah, qui ho ancora convertito il mezzo ah no, però anche questa è una niente niente posso convertire tanto l'ambiterato niente stanno a muovere tutte? non c'avete fame? nooo le flotte no, le flotte mangiano sarebbe giusto, ebbe cazzo, se non mi attaccano con la cittadina costiera bene che c'è un te rupone, eh vabbè giù invece e giuuu io ma vicino non c'è un bel cazzo non c'è l'emissario ecco lì lo rimando nell'esercizio quando in base del converti un po' di colpa latina e stanno a muovere di ancora un turno per deposi e munizioni e mi sa basta questa è un'altra cittadina mia ma diciamo che sto sui coglioni a tutti no? si per me a questi a Obama sono elleni cimatesini che ne dice una bella alleanza difensiva militare dai ma mi chiede 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 ah si questo cazzo ha il creato via questi così così credi c'è un bel accordo com'è il moterato vabbè che è un moterato vaffanculo eh e vabbè ah ogni volta ogni 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 fazione che scuola senza fancazzo è una gioia per i miei occhi un po' di meno due ragazzi vai 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 oh se ne vanno si la potenza di Roma ha trionfato sono scappati con la correva alle gambe ovviamente ciò è dovuto alla grande potenza di Roma guarda, guarda come ci marciano è una volta tornata a raga con quell'antiesercito, no? si, si, dai, dai, sbarcate, sbarcate così perché ti fanno le palle oh, via almeno non ce li scioglio, ma la dobbiamo è meglio che stiamo a tavare e qua invece continuiamo a convertire in una bella cittadina e tu mi sapevo più per il momento basta insomma, via l'azione travagliata, ovviamente l'azione distrutta e vai, che bello, gli unici ha spreso nei miei alleati, evviva cosa vedo? a parte questo che alla fine di cesi è tornato, e vabbè cosa vedo? ever in service, the road eeeh vieto front o no tu continui a convertire cazzo, vedi? vieni, già ho pensato sai che fai, bella amica mia? no, è sull'isoletta? ah, è già spazio è già spazio tutto occupato, tutti gli alberghi vieni no, no, lì c'è poco pericolo va a bobbere giù e anche lì c'è questi gli eserci ne sono pochi eh si stanno a morire fammi ma che c'è bianco sì giovanta frago famo il porto o quello militare? famo c'è sì va abbiamo finito ho detto in due posizioni perfetto questo è un botto in due posizioni 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 e questo non è male eh il 30% della cultura e questo? ah questo è quella città non è ancora un'altra cioè non c'è bisogno di sviluppare ma famo filosofia in all'aria in due posizioni non c'è niente la potenza e va bene c'è già c'è già 10 ducca a difesa ah quello che è merda non c'è niente e va bene va bene altre ruppe del nord Italia ho appena detto che ho ordinato una nuova legione nel nord Italia cazzo 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 ah adesso te buzza lo culo eh ma che voglia che vuole fare un attacco mega attacco finale a quarto fa botaggio ma che voglia che voglia adesso è muni al gelo Ah, i vici urbani, quelli più schifosi! Porta con cazzo! Vabbè, vengono ingogni, non più in là! Ecco, va andato! Ah, grande! Sotto il cazzo! Ragazzi! Ma accederemo verso l'interno! Do sta la gente? Do sta? Da là! Vieni qua che è pieno di agenti, nemici! Ok! Subito la... Qual era quello che mi diceva Palomini? Non mi ricordo mai! Madonna, questa aperta la inventano veramente in Girovedia! Questo che è il nome? Cambi di Marte! Poi... Adesso qua al porto... Un po' della via, viene a mezzolidare! Qua a posto! Posto una s******! no, vabbè mia, non c'è la porta va bene a posto non c'è la porta va 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 e qua potenziamo questo cazzo per bosco, anzi no è una cosa più interessante comunque sia qua ok, ecco il nostro obiettivo dicevo qua posso prendere qualcosa di utile qua il porto e il porto e buonziamo il porto qua, va ma questi qui chi cazzo so mi ha dei baci questo si coglioni anche a voi perché? ah, le basi dai ragazzi il mondo moderato, moderato poi mi devo dire no quelli che stanno sui coglioni ah, sollevare le cartaggine merda non c'è un po' di manciare ma non posso fare dai ragazzi con voi voi siete benvenuti anche se i miei ancestri e i paesi e va bene basta qui in spagna la situazione mi preoccupo guardando qua hanno passato il turno ebreu diremmo che l'hanno passato diremmo che l'hanno passato diremmo che l'hanno passato no eccoli dopo questi no no oh no oh tutto che famo mh non posso per me dire non posso con la piccola pera con te c'è un miracolo no 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 vittoria vivica che faccio grande non so se ho fatto bene in effetti no oddio un altro da milano no un altro da milano no 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 ma perchè ha v invest… ma perchè ho avesso gli giuli che stanno si dovviene tutto quello che c'ha la barba perchè poi se giuli perchè che cazzo c'ha no dove ah la fai a falli dove sta ah non è Damiano è sempre la cosa vabbè peggio ancora presto anche tu cazzo un po' sulla più tu vabbè andato cazzo cazzo no devo mandare lì in qualche modo per vie diplomatiche ah che dire della pace in cambio di soldini ah sta alta fammi un meno allora dai eh eh siamo in pace no siamo vi amici di prima quindi vada vieni al cazzo sono i miei pepe eh 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 non so bastardi che seguiamo i soldi in turno dopo m'attacca poi oh 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 ti 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 11 sviluppo dal rago va giusto un alta bella cocina come dica la guerra? ah si giusto un gesto guerra si si e voilà non posso manco liberare lì una bella cittadina ci voleva un po' che c'è non le tendete di rendere e vabbè quasi quasi finire qui ragazzi finisco qui perchè uno è abbattanza lungo il video due vi lascio un po' sulle spine chissà cosa faranno i breuci prenderanno i soldi da barbari onorevoli o da ciarlatani puzzoni bastardi che sono mascherano di nuovo verso Milano io ho fiducia nell'onore dei barbari però continuo a a cagare tutto è come se non ci fosse un domani penso sia tutto si 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 intanto a sud prosegue la conquista della Spagna da parte di quei cani cartaginesi che franzano non gli è rimasto un po' e basta eh stuporno mi sono mangiato un po' da roba si 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 questo è cazzo il terreno non si è questo che è volo orientale va va bene va bene va bene così per questo cartagine mi chiederà la pace io da bravo domani la deciderò vabbè dai ci diciamo di finire qui mi scuso per i problemi tecnici non so se è il pc se è un cazzo non lo so vabbè è anche un full hdd che buono eh ciao ciao ragazzi ah domanda non so se continuerò a fare altri video cioè nel senso c'è la vacanza estiva di una settimana intera ebbene si di un anno di studio me ne prendo addirittura una settimana di merda di vacanza praticamente se ne riparla verso ferragosto si dai verso ferragosto va bene stronzoni dai ci vediamo ciao ciao